Buongiorno, molti di voi ci chiedono se è possibile confezionare dei liquidi con una macchina sottovuoto. Questo è possibile solo con una macchina sottovuoto a campana, come questa, e in apposito piano inclinato. Durante il ciclo di estrazione dell'aria queste macchine vi permettono di estrarre solo la parte dell'aria senza aspirare anche la parte dei liquidi, quindi può essere utilizzato per confezionare delle purée di verdura oppure delle passate di pomodoro o anche della crema inglese.